Buongiorno a tutti, volevo fare gli auguri alla Gerico Società Cooperativa Sociale Onlus perché il 23 gennaio sabato compiamo 19 anni, 19 anni le compie la Gerico ma le compie anche il progetto che Gerico ha messo in campo che si chiama Emporio E che compie 6 anni e qui siamo alla Memo, alla Memo Caffè e quindi anche questo progetto sempre attivato da Gerico compie un anno, per cui sabato siete invitati all'Emporio nella zona Codma e qui alla Memo dove potremo assaggiare insieme della cioccolata calda eco solidale, questo è un modo per incontrarsi per stare insieme e per promuovere una cooperativa sociale che da quindi 19 anni si occupa di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico perché in tutte le attività che facciamo noi inseriamo questi ragazzi insomma, quindi oltre alla Memo, il Memo Caffè, oltre all'Emporio, il mercato dell'altra economia ci sono anche altre attività che facciamo come la raccolta differenziata, come il progetto meno scarti più cibo e lavoro grazie alla Caritas e piccole attività artigianali, per cui è un momento per stare insieme, per conoscere meglio questa cooperativa di Fano e chi vuole può anche andare nella pagina Facebook dell'Emporio e farci degli auguri. Grazie. Grazie.